Ciao a tutti ragazzi e bentornati dalla X54, oggi siamo qui perché vi parlerò dei 4 libri preferiti, arriviamo a 5 mi piace e vi parlerò dei film preferiti voglio fare questo tipo di video, nessuno me l'ha chiesto però comunque e scrivetemi nei commenti, fatemi delle domande perché la prossima settimana farò il mio primo Q&A risponderò alle vostre domande quindi in questi video che farò in questi giorni vi chiederò di fare domande ovviamente tutte le domande le andrò a rispondere tranquillamente quarta posizione, TimePort FFR, dei SuperSwanConsole pessimo però se vi piacciono i SuperSwanConsole prendetelo però comunque dicono poche curiosità su di loro, la storia pure è molto niente del loro lavoro però se vi piacciono lo comprate io l'ho comprato perché veramente, si sono degli youtuber che seguo quindi l'ho comprato proprio perché però non mi ha stupito molto terza posizione Star Wars, la scisa di Skywalker, non ha film, finisce la saga è uno dei film che mi piacciono di più, ma anche uno dei film delle saghe più amante infatti ho molti accessori, mi sapevo se è molto, magari anche la saga che mi piace di più infatti non ho potuto non comprare il nono film, l'ultimo libro che uscirà su di loro mi dispiace molto che finisce la saga, però arrivata il non episodio ormai quello che doveva fare l'ha fatto seconda posizione, secondissima posizione, non è questo libro però sono tutti questi perché, madonna sono 2400 pagine questi tre libri, ognuno da 800, se ho fatto bene i calcoli si, ok, sono giusti 2400 pagine sono gli Armanacchi del calcio 2018, 2019 e 2020 sono tre anni che faccio questa collezione sono arrivati alla 79esima edizione, non so da che anno, 1930, cose del genere vabbè, raccontano l'anno scorso di calcio, dicono molte curiosità, si compra anche in edicola i prezzi ve li dirò alla fine primo posto, non poteva non essere Alberto Nasca, tra cui il mio idolo tra cui la persona, cioè ormai lo conto come un fratello maggiore è fantastico, mi ha fatti tre video sul canale, non potevo ammettere come prima posizione racconta la sua storia che sono a memoria, però reggerla è ormai stato bellissimo allora, partiamo subito quello di SFR costa 14 euro Star Wars costa ben 16 euro tutti questi qua escono ogni anno, questi li trovate anche in edicola e costano 20 euro questo qua 14 euro e 36 centesimi su online ho 16 euro e 90 in cartobreria barra biblioteca eccetera spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e mettete la campanina per non perdere nessun altro video il video finisce qui ciao 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 Grazie a tutti.